Ogni giovedì sera a Salerno sarà possibile parcheggiare gratuitamente l'auto in centro. In città le strisce blu diventano free grazie agli incentivi per la musica live, alle richieste dei proprietari dei locali e all'attenzione dell'amministrazione comunale che intende riaccendere le luci della Movida in centro storico, senza trascurare naturalmente i residenti. Ieri l'esperimento pilota. Da giovedì prossimo si parcheggia gratis in centro grazie all'iniziativa Salerno Live Music, previsto il parcheggio gratuito dalle 20 alle 7 del mattino del giorno successivo e una tariffa fissa e agevolata all'interno delle aree di sosta automatizzate che vanno da Piazza della Concordia al Crescent nello stesso giorno e per la stessa fascia oraria. Ne abbiamo parlato con l'assessore al commercio Dario Loffredo. Io non credo di avere la bacchetta magica. Per riportare delle tendenze ci vuole il lavoro. Sicuramente questa iniziativa del parcheggio light per Salerno Suona vuole essere un primo ingrediente vuole essere un ingrediente da mettere nella questa bella pentola che è la Movida salernitana che annovera dei musicisti di fama nazionale e internazionale che ci invidia un po' non solo l'Italia ma l'Europa che ha avuto sempre una Movida viva, bella, con gestori intelligenti. Questa del giovedì sera che dalle ore 21, proprio per non danneggiare assolutamente i residenti, dalle ore 21 chi parcheggia nella direttrice che va da Piazza della Concordia fino a Piazza Cauro, fino al parcheggio del porto, ha la sosta gratuita. Chi invece parcheggia nei parcheggi automatizzati come quello di Piazza della Concordia paga una tariffa unica di 2 euro per tutta la permanenza, sempre dalle 21 alle 7. Chiaramente questo è stato studiato, non si perdono posti assolutamente per i residenti perché i tempi della città in questo periodo, chiaramente, alle 21 sono ben occupati e si è visto che i parcheggi come Piazza della Concordia, dalle 21 in poi, il giovedì, ci sono almeno 300 posti liberi che possono dare respiro alla Movida. Chiaramente non pensiamo che questo possa essere il tocca sana. Ci vuole lavoro, ci vogliono idee. Ho chiesto già al Presidente di Sareno Mobilità di valutare se c'è la possibilità di dare degli incentivi su altri giorni della settimana, ma questa iniziativa non è a caso perché si collega su un'altra iniziativa che è quella presentata dai gestori di locali che ci hanno richiesto che il giovedì volevano dare questi spettacoli musicali. Quindi sono loro averci chiesto il giovedì. Credo che fare rete e ascoltare i gestori cittadini sia il primo passo per far crescere la nostra città.